Parliamo di immigrazione, l'altro ieri 49 persone sono morte nella stiva di un barcone recuperato al largo della Libia, l'ennesima tragedia del mare, in un periodo in cui Matteo Salvini si difende dagli attacchi della chiesa, rispondendo i vescovi non rompano le palle, invece il vice parroco di Stradella, come ha riportato nei giorni scorsi il quotidiano locale alla provincia pavese, ha definito ipocrita chi va messa e poi odia i migranti. Nello specifico ha detto chi viene in chiesa e riceve la comunione e poi non può uscire e ineggiare all'odio o alla violenza contro i migranti. Ecco, ma secondo lei essere cattolico e in un qualche modo protestare con odio contro l'arrivo dei nuovi migranti sul nostro territorio denota un'incoerenza di fondo oppure no? Beh, c'è un discorso politico e c'è un discorso che è di credo e fondamentalmente legato alle proprie convinzioni, non è la propria religione, per cui da un punto di vista religioso è chiaro che il parroco li richiama a quello che sono i principi del cattolicesimo, del cristianesimo, quindi è ovvio, no? Poi su un piano politico tu puoi fare delle scelte che però non sono comunque... Cioè, sì, chiaramente non devono essere in contraddizione, però che possono ostacolare in qualche modo oppure, come dire, esprimere i propri convincimenti da un punto di vista, diciamo, sociale ma non strettamente umanitario. Ecco, rimane il discorso umanitario, secondo me, di fondo. È per un cattolico, è doveroso. Quindi quando il Papa dice, cito testualmente, respingere gli immigrati in un atto di guerra, lei concorda ed è anche un po' il suo ruolo oppure no? Oppure è esagerato quello che ha detto? No, è esagerato perché è vero sì che lui è il capo della Chiesa, ma è anche vero che lui è un capo di Stato. La città del Vaticano è uno Stato, raga, ognuno si prende alle sue responsabilità. Lui ha una responsabilità maggiore del parroco, del paesino, nella Valpadana, nell'oltre un po'. Quindi quando esprime un parere chiaramente deve chiarire i piani e ci sarebbe anche un piano politico perché non è che si esime lo Stato Vaticano da dover, cioè come dire, anche offrire i propri spazi come tutti gli altri Stati. Rimane uno Stato, uno Stato anche molto, cioè come dire, poco democratico, tra virgolette, però è così di fatto, cioè non è una mia considerazione, è la realtà, per cui lui dovrebbe dividere perché a dire le cose come andrebbero fatte agli altri è sempre molto semplice, poi farle prendersi carico un po' in questo, diciamo, secondo me una parte degli italiani secondo me lo considerano questo, cioè che la Chiesa dovrebbe comunque in questo caso muoversi con coerenza appunto di principi avendo uno Stato. No, assolutamente. Mi dispiace per queste persone perché capisco che hanno bisogno, che hanno problemi ed è giusto che vengano via da dove li fanno morire, dove li ammazzano. Però purtroppo il paese non può ospitare tutti, bisogna trovare una soluzione per poterli aiutare senza danneggiare chi abita qui, chi è italiano. A prescindere dalla fede cattolica. Assolutamente, cioè la fede cattolica non c'entra nulla, bisogna avere anche un senso di umanità nei confronti di queste persone bisogna aiutarli, però non si può aiutare solo loro e non aiutare l'italiano. Quindi quando il Papa dice, cito testualmente, respingere gli immigrati è un atto di guerra, lei pensa che insomma non è d'accordo? Ha ragione il Papa. Ha ragione? Ha ragione il Papa, assolutamente. Non è umano respingerli come fanno altri paesi, però bisogna trovare la soluzione giusta. Sì, non è un'incoerenza di fondo. Capisco anche le proteste, ma non sono costruttive. Bisogna cercare tutti insieme una soluzione. Non una soluzione, perché è una soluzione difficile da trovare in poco tempo, però comunque questo abbarbicarsi su posizioni nette da una parte e dall'altra non risolve il problema e crea soltanto divisioni e ulteriore difficoltà di comunicazione e quindi odio. Quindi lei questa incoerenza di fondo la vede e la trova? Sì, diciamo di sì. Quindi è d'accordo con lo dice il Papa, respingere gli immigrati è un atto di guerra. Il Papa ha detto questo, la pensa un po' come lui? Magari un po' forte l'affermazione, però è provocatoria, ma volutamente, quindi direi di sì. Grazie a tutti.